Ciao a tutti e bentornati! Colin Farrell e Paula Patton insieme in Warcraft. Vi dico tutto dopo il video. Sono sicuro che gli darete una mano per inserirsi, no? E quindi mio padre ti sta obbligando a giocare a rugby? Sei venuto a perdirmi questo? Il rugby è questione di testa, che ha il tuo controllo. Vincenzo è una leggenda. Noi ragazzi siamo cresciuti guardandolo giocare. E anche noi ragazzi. Quando ha saputo che ci allenavi tu, ero emozionato. Non ci vuoi mettere squadra uno così. Adesso prendila! Portami dentro e facciamola finita. Da oggi c'è quello che dico io. È la figura di merda che mi hai fatto fare. I nostri sbagli sono la nostra forza. Più ci sentiamo inferiori, più ci mettiamo grinta, coraggio. Voi adesso rientrate in campo e li fate a pezzi, regà. L'hai! Il regista Duncan Jones sembra abbia scelto per i ruoli principali di Warcraft two attori di rilievo. Colin Farrell e la bella Paula Patton. Non si hanno però ancora dettagli sul ruolo scelto per le due star di Hollywood. Warcraft è l'adattamento cinematografico del popolare videogame, un suggestivo paesaggio fantasy all'interno del quale si consuma l'epico conflitto tra la Horde e l'Alliance. Diretto da Duncan Jones e sceneggiato da Charles Leavitt, Warcraft inizierà la produzione a gennaio 2014. Legendary Pictures però non ha ancora indicato la data di uscita nelle sale. E per oggi è tutto, se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Ciao e alla prossima!